Assura quattro amici e ripaga ad ore La sua pelle te la sogna Si dice che sia famoso in Giappone Ho sentito che a Marta ce lo vogliono Come giudice Potrei sembrarti il solito inutile, falso, ipocrita youtuber senza talento Ma in realtà sono molto peggio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Io sono Gianmarco e oggi qui insieme a voi voglio ricordare Uno dei giorni più terribili della storia dell'umanità Il mio arrivo su youtube Cinque anni fa Ormai sono passati cinque anni Cinque anni Se la matematica non è solamente una cosa inventata Dalle persone per far finta di essere intelligenti Perché è stato il primo gennaio del 2016 Quando ho deciso di inquinare le vostre vite È il mio complicanale Perché si fa il brindisi E per farlo ho preso una Coca Zero No sponsor E ancora non ho capito perché non mi sponsorizzano onestamente quelle da Coca Cola No in realtà l'ho capito Cioè non vorrebbero mai probabilmente associarsi a uno personaggio come me Però perché non farlo voglio dire Quindi se no l'avete ancora fatto Iscrivetevi a questo canale Perché se no lo fate finisce male Nel senso che finisco male io Cioè in realtà guarda che ogni Oh no sono pilliccio di gatto di topo Perché io non so dove sarebbe la mia vita Se oggi non avessi il mio canale su youtube Probabilmente sarei sotto un ponte No Probabilmente sarei già morto O forse tutti e due morto sotto un ponte Pazzesco E per l'occasione Ho deciso di rivelare alcuni dei segreti più terribili e inquietanti Che riguardano la mia vita Che mai avreste voluto sapere Sono amico Vuoi sapere un segreto terrificante? Eh? Vai dimmela No Gianmarco Tegano Posso dire una cosa? Lo posso dire o no? Sì Posso parlare per una volta? Io? No Come ti permetti? Non posso dirlo? Posso dirlo? Sì no È una dentiera No Quindi? Cioè Non c'è il problema È una dentiera fatta da culo Perché potrebbero farmela meglio E adesso che tutti quanti lo sanno Pace l'anima vostra Ciao Volevo dirvi che sono il figlio del prete Io vedo il futuro Ok Dici cosa vedi? Per voi Terribile Ciao State vedendo una stella Ci credi o no? No Non sei te Allora ciao Specchio specchio delle mie brame Chi è il più youtuber migliore del reame? Bella calda a marbo Mi sei piaciuto? Ti riguarda la Bretagna anche la troca a zero Migliora questa musica Che bonitos ovesti? Ah ciao spagnolitos Pure international Chi sono? Mejor youtuber della storia Oddio Mai nominare il mio nome in vano Ma è vero? Cosa che è vero? La mia faccia ovviamente no Lo vedi questo bicchiere? Sì Adesso lo vedi? No Magia Sono il miglior youtuber Mai esistito nella storia E non lo avete ancora capito No La persona più interessante che abbia mai conosciuto? Me stesso Il venerdì sera mi faccio chiamare Mario Ma solamente dalle 18 in poi Dolce, sana, verità L'onestà Prima di tutto Cosa sono queste voci? Cosa sono queste voce? Una volta vediamo i tuoi video che compravi su Apple a caso con tua sorella mi sembra E non li guardi più? Eh no Allora ti schifo ciao Cos'è? Aiuto Che figata È un coniglio morto No è vino Il tè la pesca in realtà è pipì di gatto in confezione Da consumare con una comoda cannuccia Ciao Io e te potremmo fare grandi cose insieme Ti stavo cercando Ti stavo cercando Io non vedo differenze Io non vedo differenze È per questo che sei la migliore Ti seguo su YouTube Grazie pulicini Vi mando un bacione Ciao Dicono che le voci nella mia testa sono un problema Ma è davvero un problema Però io parlo da sola di me stessa Di proprio Che sono bellissima Mi guardo gli specchi sempre Ti meriti una stella Ma la metto in testa? No Oddio Io leggo nella mente delle persone So quello che state pensando in questo momento Ma rega Ma è già un marco Io so quello che state pensando Dai Dai Mi stiamo pensando Stai vedendo una estrella Stai d'accordo Stai d'accordo Io prima di addormentarmi Guardo la gente che vernicia le scarpe Ok C'è un altro zagato Chi? La londa risponde Non di meno Non mi interessa Ma Ticca Ti ho molto bravo Ticca Anche tipo quando cammino per strada Mi guardo sulla vetrina Dico Figa Non lo fai anche tu? Io sì Ci ho fatto una carriera su sta roba qua Uè Gianmarco Ciao caro Quanto tempo Ti cercavo proprio te Per dirti una cosa Allora Hai presente Tutto il fatto Che riguarda La moda La vita E tutto quanto il resto Ecco l'ho creato io Perché io sono dio Vai in pace caro Che il buon gusto Sia sempre con te Quando guido E sono convinto che morirò Alla fine della strada Scelgo la canzone perfetta Perché spero che mi ritrovino Con una canzone di lana del rei Morto crepato Ma tu sei famoso Sei quello Kiss me hard before you go Chiamiamo Chiamiamo Lo so Grazie Quella è la faccia che faccio io Ogni volta che apri il mio conto in banca Davanti al banco Matt Non ci credo E quella è la seconda frase che io dico Quando apri il mio conto in banca Di un'altra parola No vabbè Quello sono io quando vado a pagare il conto È incredibile Vai Prova a dire un'altra Non ci credo Io ogni volta che ricevo l'estratto conto Della carta di credito Possiamo fare una foto Quello invece sono io ogni volta che vado allo specchio Meglio grassi che male accompagnati Voi sapete chi è la persona migliore Che abbia mai incontrato nella mia vita? Io Avete indovinato me stesso L'acqua è l'essenza dell'idratazione E l'essenza dell'idratazione è la bellezza Ok ragazzi io penso che sia stato anche più che sufficiente Mi sento veramente una persona rinata Sono passate sette ore da quando ho iniziato questo video E ho incontrato moltissime persone E ho visto moltissime facce sbalurdite Io vi ringrazio a tutte le persone che hanno voluto assistere E stare qui Io spero che questo video sia piaciuto e vi abbia divertito Scrivetemi giù nei commenti qual è stato il segreto Che più vi ha sconvolto Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su Così so che ne devo fare altri Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale Esce un nuovo video di martedì e quince di sabato alle 10.30 E' un dato giovedì ma questo non sa mai nessuno Io vi mando un bacione grande grande E' un prossimo video Ciao 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 Ciao